Sembra che comunque si voglia in qualche modo perseguire o perseverare in un atteggiamento di invasione delle nostre abitazioni, delle nostre persone, del nostro spirito, con una normazione che in parte vuole entrare nelle nostre coscienze e piegarle in modo che si realizzano e si manifestano in un modo che va oltre quello che è consentito e i limiti che la stessa Costituzione pone nel momento in cui riconosce i nostri diritti. E questo si ritrova in tutti gli articoli che riguardano i diritti delle persone della Costituzione, dall'articolo 2 all'articolo 42. Se pensiamo ad esempio ai limiti sull'esercizio della propria fede religiosa e la partecipazione a ridi e sacramenti, i cui limiti tradiscono quelli che invece sono indicati dall'articolo 19, sulla libertà di culto e sulla possibilità di ridi e sacramenti che non siano contrari al buon costume. Ma lo stesso, gli stessi limiti ai divieti di aggregarsi e riunirsi in pubblico per manifestare il pensiero o anche di dissenso in violazione dei diritti previsti dall'articolo 17 e 21. Pensiamo anche alle limitazioni, poste e gli ostacoli all'attività giudiziaria in violazione di quel diritto riconosciuto a tutti dall'articolo 24 di adire il giudice o anche i divieti e ancora le compressioni e i limiti posti alle manifestazioni sportive, artistiche e teatrali in violazione di quello che l'articolo 33 definisce inviolabili. E ancora le limitazioni ai dritti dell'istruzione in violazione dell'articolo 34. Soffermiamoci per un attimo su quello che ormai abbiamo imparato a conoscere tutti in questi ultimi 18 mesi, che è l'articolo 13 in base al quale si pone e si afferma la inviolabilità delle nostre libertà personale, che può essere limitata solo alla stretta ricorrenza di due condizioni congiunte, ossia una legge che lo preveda, riserva di legge, ma non basta la legge, è necessario anche un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, riserva di giurisdizione. E se queste sono le condizioni per poter limitare la libertà personale, allora la quarantena e tutte le misure o gli istituti ad esse equiparabili, nel momento in cui per 14 giorni o anche più pongono gli italiani in una condizione pari a quella del detenuto agli arresti domiciliari, ma che a differenza di questo viene inrogata senza un accertamento di positività, dalle più disparate autorità locali o sanitarie e con i più eccentrici mezzi, dalle comunicazioni mail generali, impersonali, magari rituitate o pubblicate su chat di classe o anche comunicazioni telefoniche, ma siamo o no di fronte a una chiara violazione dell'articolo 13? Il coprifuoco, che è una misura aberrante, che veramente si fa fatica anche a credere che qualcuno nella nostra storia contemporanea possa arrivare a pensarlo come una possibile misura, ma che da sette mesi ci tiene chiusi dalle 22 alle 5 o per grazia ricevuta dalle 23 o dalla mezzanotte alle 5, ma anche per dieci minuti, ci tiene chiusi dentro casa, privandoci della libertà di poter disporre del nostro corpo nello spazio e nel tempo e a prescindere dalle esigenze personali, al pari del detenuto in semi libertà. Siamo o no di fronte a una chiara violazione dell'articolo 13? La certificazione verde, di cui al decreto legge del 52 del 2021, che limita la circolazione, che invece l'articolo 16 prevede come dritto fondamentale e che può essere limitata solo in presenza di gravi motivi di salute o di sicurezza. Questa normativa è compatibile con un divieto generalizzato ad una serie indeterminata di persone sane, non rientranti in categorie a rischio, che non possono circolare, soggiornare, usufruire, utilizzare abitazioni, luoghi, territori, in assenza di un concreto, specifico e attuale rischio di contagio per sé o per gli altri. Il lavoro, anch'esso, è un diritto che la Costituzione, l'articolo 35, riconosce come fondamentale e appartenente a tutti i cittadini, ma oltre a essere un diritto soggettivo, è anche qualcosa di più. Il lavoro è il tratto somatico della nostra Repubblica, è quello che caratterizza il nostro ordinamento. Lo grida a gran voce la prima disposizione della Costituzione, viene aperta con il comma 1, articolo 1, e si afferma che l'Italia è una Repubblica democratica che è fondata sul lavoro, non su altro, non sulla libertà personale o la libertà di circolazione o sul diritto alla salute, che piaccia o non piaccia. È così. E quindi, chiunque, dal più alto dei costituzionalisti, alla chiacchiera da bar, che voglia sostenere un'argomentazione per il quale il diritto alla salute si pone come un diritto primigenio, un diritto nobile, un diritto tiranno, al quale viene asservita il riconoscimento, la tutela di tutti gli altri diritti fondamentali, cade in un ragionamento inevitabilmente antidemocratico e anticostituzionale. E da qui c'è anche la coda sull'iniziativa economica privata, perché questo costituisce lavoro per chi ha l'iniziativa, ma genera lavoro per tutta la filiera. E allora, nel momento in cui chiunque può intraprendere un'attività commerciale, aziendale, professionale, industriale, con i limiti che la Costituzione pone, che sono quelli del rispetto della libertà, della dignità umana e dell'utilità e sicurezza sociale, siamo al di fuori di ogni possibile limitazione che non rientri nell'alveo di queste condizioni. Ed allora, quando una legge viola il sistema che la genera e quando tradisce l'ordinamento madre fino a diventare nociva per esse, quando si scontra con la Costituzione e con la morale individuale e collettiva, dovranno, dovrebbero scattare quei meccanismi che la Costituzione prevede per la tutela, la difesa e il rispetto delle normative fondamentali del nostro ordinamento che sono previste all'articolo 52 e 54, sicché qualsiasi condotta che si ispiri o sia finalizzata all'articolo 52 e 54 non potrà mai essere ritenuta colpevole. Tanto è vero che sia in materia penale con l'articolo 51 del Codice Penale ma anche in materia amministrativa con l'articolo 4 della legge 689 dell'81 si prevedono delle cause di esclusione della punibilità di tutte quelle condotte che sono poste in essere nell'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima figuriamoci se di rilevanza costituzionale ed allora non ci sarà più bisogno che qualcuno ci venga a dire che una norma illegittima è incostituzionale certo la Corte Costituzionale è il giudice a ciò deputato ma non ha un rapporto diretto con il cittadino ci si arriva attraverso una mediazione o un rapporto indiretto di un giudice ordinario che si faccia venire il dubbio sulla costituzionalità o meno di una determinata norma e quindi rimetta alla Corte la decisione su tale dubbio ma quando quel giudice il dubbio non ha e quando quel giudice si trova di fronte a decidere una questione sulla base di una norma palesemente chiaramente manifestamente incostituzionale illegittima o comunque liberticida non dovrà rimettere gli atti alla Corte ma dovrà per legge l'allegato E della legge 2248 del 1865 disapplicare la norma illegittima e allora non dobbiamo aver paura di difendere la Costituzione non dobbiamo aver paura di difendere noi stessi siamo uomini liberi nati liberi in un paese libero e la libertà non viene trovata per strada o piovuta dal cielo la libertà va cercata va conquistata e una volta conquistata va difesa contro tutti e contro tutto ciò che potrebbe sottrarre quote di libertà e allora quella fatidica data di cui tanto si discute che tutti aspettiamo di conoscere per sapere quando poter ripartire o riattivare le nostre libertà già c'è lo prevede la legge e lo prevede e cadrà il 31 luglio del 2021 che è la data il termine massimo di durata dello stato di emergenza oltre il quale non si potrà andare se non in violazione della legge ed allora dal 1 agosto del 2021 l'ordinamento dovrà tornare a muoversi nei binari della Costituzione e indirizzando la propria azione nel rigoroso rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà personali gestendone la tutela la garanzia e il riconoscimento al di fuori di una condizione di emergenza che oramai è scaduta o scadrà a breve e qualora così non fosse e quindi se qualcuno avesse in animo di allungare questa condizione emergenziale o questa emergenza sanitaria non solo commetterebbe un grave attentato alla Costituzione ma soprattutto un abuso un abuso che è foriero di responsabilità politica morale sociale e anche penale perché pone gli italiani si porranno qualora dovesse essere questa la prospettiva si porranno gli italiani di fronte ad una inaccettabile scelta di dover obbedire ad un obbligo illegittimo oppure violare una regola costituzionale e da seconda e a prescindere su quale delle due alternative cadrà questa scelta si tratterà sempre di un'azione di inosservanza e di disobbedienza all'una o all'altra norma speriamo che rimanga civile questa disobbedienza e che perché è l'unico modo per restituire la dignità alle persone perché prima di essere cittadini siamo esseri umani e non può esistere alcun governo senza di noi